È in arrivo una rivoluzione intelligente. Dal 1 gennaio la fattura diventa elettronica e sostituisce definitivamente quella cartacea. Sarà gestita online tramite sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate. Eliminerà i costi di stampa, spedizione e conservazione. Contrasterà le frodi e sarà semplice, grazie all'app Fattura.e e ai servizi web dell'Agenzia. È interessato chiunque emetta fattura, tranne i piccoli contribuenti. Mentre per i cittadini non cambia nulla. Grazie a tutti.